Buongiorno a tutti, siamo qua in municipio a Rivaligure insieme al sindaco neorieletto al suo secondo mandato Giorgio Giuffra. Ecco, è stata presentata ufficialmente la giunta comunale, il nome degli assessori e quant'altro. Ecco, sindaco, ci dica chi sono questi assessori e perché li ha scelti. Squadra che vince non si cambia, lo avevamo detto prima delle elezioni, abbiamo riconfermato nei ruoli apicali coloro i quali già lo ricoprivano nel primo mandato. Il vice sindaco è stato nominato il dottor Franco Nuvoloni, l'assessore Benza continuerà a occuparsi di turismo, manifestazioni, demanio marittimo e fluviale, lavori pubblici e nel primo consiglio comunale che si terrà nella giornata di domani proporremo l'elezione di Martina Garibaldi, quale presidente del consiglio. Ecco, lei si è tenuta qualche delega? Sì, ho tenuto qualche delega, la delega alle grandi opere, la delega alle infrastrutture, agli impianti sportivi, al personale, alla polizia locale e alla sicurezza. Credo che queste deleghe debbano rimanere in capo al sindaco perché fanno parte di una programmazione più generale dove sarà coinvolto tutto il gruppo consigliare. Grazie. Grazie.